Ciao a tutti, oggi a richiesta facciamo l'analisi di Champions Oncology. Senza perdere troppo tempo e andando dritto al punto, vorrei far notare che questa società non chiude da 4 anni e forse anche di più in positivo. Più precisamente in 4 anni ha perso quasi 32 milioni di euro, contando che ha un fatturato quest'ultimo anno di appena 20 milioni di euro. L'unica cosa che mi fa ben sperare è che il rapporto utile netto sui fatturati si sta avvicinando allo zero, quindi magari in un futuro riusciranno a chiudere l'anno in positivo, però comunque non ha senso andare avanti con l'analisi perché sarebbe inutile. Una società che non produce utili è come un calciatore senza gambe, cioè non serve a niente, è inutile. Quindi vedremo se in futuro si riscatterà. Nel frattempo se vuoi un indicatore ti lascio il link in descrizione, ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia personale, ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao!